Ciao a tutti, sono Amar Fantini e sono qua per supportare Dogalize. Guarda che si legge meglio, Dogalize. Che cos'è? Allora, è un'associazione che aiuta gli amici a quattro zampe. Come? Facile. Voi andate sul sito dogalize.com, si scrive dogalize.com, facile. Basta l'iscrizione, è completamente gratuita e loro regaleranno un pasto a un amico a quattro zampe di un canile. Quindi ragazzi, io l'ho fatto, ora tocca a voi, vi passo la ciotola.